Da quando incandose le femmine, tutt'opare, come si costumava, facevano il nostro pane, che abbarrava bello finché sprucchiere. In vita abbarravano le femmine e le sue criaturi e le cose che non potevano lavorare per loro, e anche il tizano, che benedetto abbarattava su che facevano e che cos'era di manicare. Uno gruppo industriale del suo continente ha fatto iscritto che crea un stabilimento petrolchimico il soprano di Predas, che sa promessa e che costum ha dato il travallo a Zentemeda finché a servire di Acurzi. E che pro lo vagare, possiamo contare dei soffinanziamenti che il governo e la regione avevano impinato per modernizzare il sardino. A presto! A presto! A presto! A presto! A presto! A presto!